Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Petro Simo al comando del Cagliari Calcio Adesso andiamo ad affrontare un Milan in difficoltà che però con determinati elementi come pacchetta ad esempio Può essere una squadra comunque tosta, la situazione in classifica è questa Noi siamo al quinto posto, 6 punti dietro la Juventus e il Milan davanti a noi, anzi scusate no, l'Inter davanti a noi Insomma sta ancora continuando a giocare bene, il Napoli lo stesso, quindi è un campionato molto tirato Siamo tutti nel giro di insomma 6 punti, quindi l'Inter addirittura ha 3 punti dalla Juventus Quindi tutto può ancora succedere, bisogna solo sperare che prima o poi questa Juve che sta dominando il campionato Prima o poi possa rallentare, magari fare un paio di risultati negativi e poi dobbiamo assolutamente evitare di perdere anche solo 2 punti Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite fino a quando poi ci sarà lo scontro diretto e batterli diventa fondamentale Altrimenti non vedo come sia possibile riuscire a battere una squadra del genere in 38 partite Quindi dobbiamo continuare con la nostra forma, stiamo giocando bel calcio, soprattutto in Europa Stiamo praticamente dominando ogni singola partita, abbiamo pareggiato solo contro lo Spartak Mosca Che comunque giocando fuori casa ci può stare, però attenzione qua a San Siro Stadio che spesso abbiamo espugnato, ma attenzione perché il Milan incomincia molto bene proprio con Paketa Che insomma potrebbe essere il giocatore talismano per questo Milan Un'altra occasione qua per il Milan sempre con Paketa che sembra una specie di Mani Pacquiao nel gioco Non è esattamente così in realtà però ok Tierney, in area di rigore, trova Zagnolo che però, trova, mia chi è? Cortes Non lo conosco sto portiere, magari è anche forte Però attenzione perché il Milan continua con Leao, in area di rigore, una serie di giocate Ed esce un calcio d'angolo Suso, un grande tiratore di calcio d'angolo Trova Donnarumma, Ben Nasser Mamma mia che casino, che casino perché la difesa proprio fa Cazzate, Leao Trova un Tuanzebe ben posizionato, ma di nuovo a Leao E Donnarumma fa una parata incredibile Con il piede, grande Donnarumma Molto molto pericoloso qua ad incominciare la partita al Milan E un assedio infinito qua Un altro calcio d'angolo Altra occasione, altra parata Di Donnarumma Che sta facendo il suo, ci sta praticamente tenendo di partita A questo punto Poteva essere davanti 4-0 Un'altra occasione di testa, sul calcio d'angolo Leao non trova la porta Però attenzione perché ancora il Milan E qua di nuovo Donnarumma Che sta facendo una partita mostruosa Questo è il motivo per cui l'abbiamo pagato così tanto Perché comunque quando fa queste partite qua È uno dei portieri migliori al mondo Ancora Milan Suso Mette una bella palla Però Non trova la porta Anzi no, trova Donnarumma di nuovo Assurdo Donnarumma Assurdo Di nuovo Suso da calcio d'angolo È un bel cross questo Però la palla viene messa fuori Werner Può girarla La dà Cutrone perde il colpo di testa Paquetà Vede Borini Addirittura Borini Che schifo Paquetà Al limite dell'area Trova Krunic e tira Mamma mia Un Milan mostruoso questo Come cazzo fa Ad essere così dietro in classifica È un mostruo È un È un Milan mostruoso adesso Altro calcio d'angolo Altro colpo di testa Questa volta Fanno 1-0 Praticamente abbiamo passato 35 minuti Con loro che assiedono La nostra area di rigore Hanno avuto tipo 5 calci d'angolo Di fila Nel giro di 10 minuti Ci stanno martellando in malo modo Ma qua Werner Trova Valverde Fa l'1-1 Completamente Contro L'andamento del match Meno male Meno male Adesso magari possiamo stare tranquilli Possiamo cercare di recuperare Respirare E cercare di andare a vincere questa partita Perché veramente Il Milan sta giocando un grandissimo calcio Però forse abbiamo capito Perché sono così dietro In classifica Ovvero La difesa La difesa rimane Imbarazzante Qua si sono fatti Si sono proprio scoperti in malo modo Hanno lasciato tantissimo spazio A un giocatore come Werner Poi l'inserimento di Valverde Era perfetto Qua Werner Di nuovo Riesce a imbuccare la difesa E lui non sbaglia quasi mai E fa Il 2-1 Proprio allo scadere del primo tempo E adesso siamo Siamo messi molto bene Qua possiamo giocare il nostro calcio Il Milan è costretto Ad aprirsi Ed è così che solitamente Giochiamo bene Cioè Il nostro problema Solitamente Non è necessariamente Contro una squadra forte E contro le squadre piccole Che si chiudono Infatti vediamo in Europa Dove sei più o meno costretto A giocare a testa alta Le partite Cercare di vincere le partite Piuttosto che non perdere E infatti Cioè Riusciamo quasi sempre a vincere Sia in Europa League Che in Champions finora Quindi vediamo cosa fa il Milan Qua è una bellissima palla Questo è uno Uno dei gol più belli Che abbiamo fatto in tutta la stagione Proprio un'azione meravigliosa Werner poi Con un tiro di controbalzo Ha fatto un gol meraviglioso Non è per niente facile Con poi Un portiere Che ti va da gridire Guardate un po' la giocata qua Cutrone tra l'altro ha preso fallo Zagnolo con un bellissimo pallone Werner anticipa Cortes Guardate un po' che roba Guardate che roba Anche perché l'angolo era piccolissimo Il portiere era ben posizionato Ma Werner ha fatto un gol Da fuori classe E siamo davanti 3 a 1 E più o meno Siamo tranquilli Qua Cutrone In aria di rigore Fa un tiro imbarazzante Poteva essere Insomma Ha fatto la scelta sbagliata Qui ha provato Il pallonetto Che non ci stava Ma qua Donnarumma Compia un'altra grande parata Proprio in formissima oggi Il portiere Del Cagliari Andiamo a fare un po' di cambi Mettiamo Greenwood Che dalla panchina In situazioni come questa Potrebbe essere devastante Togliamo Valverde Che ha fatto una grande partita Proprio lui Ad averci messo Sull'1 a 1 Quindi grande prestazione Anche di Valverde Che è stato un acquisto Fenomenale E qua Cerchiamo di chiuderla Werner Da lontanissimo Col piede debole Al tiro a giro Perfetto Trova l'angolino Ed è 4 a 1 E il Milan È zittito In casa Mi dispiace per Joe Pinna Ma il tuo Milan È proprio una merda Anche nel gioco Quindi Noi continuiamo Ad avanzare E a rincorrere Una Juventus incredibile Con Cioè una marea Di gol di Werner Guardate un po' che tiro qua Cioè il portiere qua Era anche ben posizionato Niente da rimproverare Sul portiere Ma Werner Col sinistro Che ricordo Non è il suo piede buono Trova l'angolo Perfetto E fa 4 a 1 E poi Il Pantera Agomis Viene emulato qua Da Timo Werner E finisce così 4 a 1 Andiamo ad allenare I soliti giocatori Tonali non sta facendo benissimo Questo periodo In allenamento Ma lo sappiamo È un grande giocatore È un giocatore Che può darci Veramente Veramente tanto Adesso andiamo ad affrontare Il Bayer Leverkusen Odio questo filtro Che mettono Per le partite di Champions Proprio non lo posso vedere Ma ci tocca sopportarlo All'Leverkusen Sta nevicando Quindi potrebbe essere Un po' più complicata La partita diciamo Perché ovviamente L'è un'andata Le abbiamo Completamente distrutti Vediamo Quando il giro di ritorno Se riusciamo Definitivamente Qualificarci Al primo posto Del Del girone Vincendo se non sbaglio Avremo la garanzia Proprio di questo Di allenare Agli ottave di finale E beccare magari Cioè anzi Non senza magari A beccare un secondo posto E subito Timo Werner Con un po' di fortuna Fa l'1-0 E di nuovo Emula Gomis Esultanza un po' A caso direi Però ci può sempre stare Emulare un giocatore Come Gomis Che ha fatto La storia No? Nel calcio Ovviamente sto esagerando Però ci può stare Non è una brutta esultanza Werner di nuovo Però questa volta È Cutrone A sfruttare Una parata Non esattamente Stellare Del portiere E facciamo il 2-0 Subito E praticamente In questo modo Ci garantiamo Il primo posto Del girone A meno che Non dovessimo Andare a perdere Corriere a Madrid Che potrebbe essere Ovviamente Una cosa che può succedere Ma se non sbaglio Anche così Siamo a posto Qua Cutrone Un altro gol della merda Non c'è nessun bisogno Di vedere il replay Ormai Ormai Quanto parla La squadra Ha adottato L'esultanza Di Gomis Non Bisogna cambiare Sta cosa Non è che sia proprio Un'esultanza Della madonna Non è brutta Ma c'è di meglio Qua Valverde Avanza Il portiere esce E fa una bella parata Questa volta Dai Questa volta Il portiere Ha fatto la cosa giusta Non Non lo si può Rimproverare Più di tanto Sta venendo torturato Ma non è di certo Colpa sua Quando hai una difesa Così Una difesa Che ti fa Insomma Subire praticamente Dieci occasioni A tempo Non è che puoi fare Sempre i miracoli Questa volta Ne fa un altro Grande parata Proprio su Su Werner Comunque non è un avversario Facile Da controbattere Qua Greenwood Al volo Gol È comunque Un gol della merda Più o meno Insomma Non è il più facile Di gol della merda Però è pur sempre Un gol della merda Va fatto però E Greenwood L'ha fatto Dalla panchina Lui può essere Sempre decisivo Con la sua velocità Con i suoi inserimenti Nonostante Insomma Può essere Già dall'inizio Le partite Ma soprattutto A partita in corso Contro difese stanche È un giocatore Che veramente Può distruggere Chiunque E qua E Leverkusen A me non fa Il gol della bandiera Perdono comunque In modo notevole C'è proprio Una distruzione totale Però almeno un gol L'hanno fatto E come al solito Noi non riusciamo A tenere un clean sheet È il nostro È il nostro problema principale Il fatto che Veramente Non Nonostante giochiamo Un gran calcio Spesso ci facciamo Fregare dai gol stupidi Però se non altro Questa volta Abbiamo fatto tre partite Abbiamo fatto tre vittorie E insomma Non possiamo Non possiamo Assolutamente Lamentarci Di nulla Anzi no Per il momento Due partite Scusate Due partite Andiamo ad accettare Il prestito Per Costa E attenzione È tornato Niclas Sule Un ritorno Importantissimo Per noi Perché un giocatore Insomma Quando abbiamo preso Poteva essere Colui Che ci avrebbe Dato la svolta Una specie di Virgil van Dijk Per il Cagliari Perché Insomma Abbiamo comunque Un ottimo elemento Come Upamecano Abbiamo James che è fortissimo Anche Tierney Comunque direi È molto buono Però avere un giocatore Come Twan Zebe Che sia buono Ma non è Uno dei top E avere magari Anche Todi Boro Stesso Molto buono Molto profettente Ma non top Avere Sule Potrebbe essere il giocatore Che ci dà Una gran spinta Adesso Man mano che torno Ovviamente Non lo mettiamo subito Tettuale Che è appena tornato Da un infortunio brutto Però Alla lunga Sarà sicuramente Un giocatore importante Mentre qua Vogt Mi sa che si pronuncia così Chiedo scusa Kevin Se non è così Si fa Ammonire E abbiamo l'occasione Per sfruttare il formaggio Sulle punizioni di FIFA Werner fa la finta Viene trovato da Tierney In area di rigore Tira E fa l'1-0 Non ne poteva Assolutamente niente Il portiere Non so se sia ancora Stracoscia Però Non poteva assolutamente Nulla qua Il solito formaggio Che funziona praticamente sempre A meno che non te la sbagli Che l'abbiamo sbagliato Diverse volte Quest'anno O anche l'anno scorso Comunque In partita con Donnarumma Ma questa volta Non sbagliamo E l'1-0 contro la Lazio Che è una squadra Che è una nostra rivale In campionato Una squadra che spesso Ci ha dato fastidio Mentre qua Werner Ha quasi avuto culo E ha quasi segnato Dobbiamo Se riusciamo a battere questa Lazio Sarebbe un bel passo in avanti Perché comunque Una delle migliori squadre Viene sconfitta E possiamo tenerci Più o meno grappate Alla Juventus Cercando di Avvicinarci un po' Barella poi Fa il 2-0 Il 43esimo Con un gran passaggio Un bellissimo assist E di nuovo L'esultanza Devo smettere Di fare la stessa esultanza Zagnolo aveva fatto Il bel assist Quindi complimenti Anche a Zagnolo Che sta continuando A migliorare Werner si gira La grande Trova la deviazione Mi sa Sempre di Vogt Partita proprio stregata Per lui Perché ha regalato L'occasione per fare Il 1-0 Adesso ci ha regalato Il 3-0 E finisce In malo modo La partita di Vogt Insomma Ce n'è ancora tempo Potrebbe ancora Subire altre beffe Ma direi che Per il momento Ne ha subito Anche troppe forse Guardate un po' qua Werner come si è girato Poi il tiro Sembrava comunque Indirizzato in porta Però chi lo sa Magari viene preso il palo Che comunque a FIFA È una cosa che può succedere Molto spesso Insomma Quindi forse Non mettersi in mezzo Alle balle Era meglio per la Lazio Però ormai è andata così Werner Di nuovo in aria di rigore Però trova una buona parata Del portiere Zaniolo questa volta Tu per tu col portiere E di nuovo Fa una buona parata Non mi sembra stracoscia Sarò onesto Quindi insomma Chissà dove sia finito lui Andrebbe cercato L'anno prossimo Giusto per capirlo Comunque È un gran bel portiere E qua Visto che abbiamo Tanta sicurezza Facciamo i soliti cambi Diamo spazio anche a Fati Che ha bisogno di giocare È uno dei nostri giovani Più promettenti Forse addirittura Il più promettente Quindi bisogna fargli Fargli avere spazio Bisogna trovare anche il modo L'anno prossimo Per cercare di Insomma Di farlo Diventare un titolare Perché veramente il talento Non è da sottovalutare Qua Werner Vede l'avanzata Di Barella Che fa il suo Secondo gol della partita Ed è 4-0 La Lazio Si inchina Davanti A Petrusimola E il suo grandissimo Cagliari E il nostro Il nostro cammino Rimane Rimane intatto Ancora siamo in corsa La Juve Non sembra interessata a fermarsi Proprio non Non sembra neanche fattibile Proprio riprenderli Però Dobbiamo fare Tutto il possibile Per riuscire a farlo Se non dovessimo riuscirci Cioè Pazienza Veramente Questa è una grande Juve Però Noi dobbiamo fare Tutto il possibile Per Almeno metterci Nelle condizioni Di poterci sperare La speranza È l'ultima a morire E dobbiamo cercare Appunto Di rimanere in vita Il più possibile Qua Fati In area rigore Una bella giocata Trova Werner Che però Trova l'opposizione Di un buon Di un buon difensore Ilicic Mi sembra che era Ilicic Forse era un altro Non No come si chiama Vabbè Comunque sia Non Non riesce a superare Donnarumma Che sta facendo Delle prestazioni Fenomenali In questo video Qua Ho un'altra occasione Proprio lo scadere Samson Vede Zaccaria E non riesce A fare niente Finisce così 4 a 0 Un bel clean sheet Per Donnarumma E per una difesa Che comunque Va detto Questa partita L'ha giocata praticamente Alla perfezione Non ho visto errori Non ho visto Casini Pasticci Né nulla E quindi possiamo essere Molto soddisfatti E speriamo che sia all'inizio Anche perché adesso Ripeto Con il ritorno di Sule Potremmo avere anche Un miglioramento Difensivo Notevole Visto che purtroppo L'abbiamo avuto Per pochissimo tempo Prima di spaccarsi Neanche il tempo Di adattarsi Al campionato Di ambientarsi Con la squadra E si è rotto Quindi un peccato Adesso siamo Al secondo posto Due punti davanti Alla Roma E all'Inter Quattro punti Davanti al Napoli Però sempre sei punti Dietro la Juventus Che ha subito Solo quattro gol In quattordici partite E' veramente Una squadra Devastante Sta Juve Il Milan E all'ottavo posto La Lazio ha perso Un sacco di punti E l'Empoli E all'ultimo posto Con zero vittorie In quattordici partite Chissà se farà Come il Crotone L'anno scorso Werner E' ufficialmente Il capo canoniere Come vi ho pronosticato Nello scorso video Lo sarebbe stato A molto breve Infatti è così Ed è anche uno Dei migliori Assistman Del campionato Attenzione anche a Barella e Valverde Che sono lì Quindi insomma Tutta la squadra Sta girando Alla grande E Donnarumma Sale un po' In classifica Per i clean sheet A 6 Quindi stiamo Stiamo migliorando Questo è poco ma sicuro Però ancora Sembriamo lontani Dall'essere realmente Competitivi Contro una Juventus Una Juventus Del genere Però la squadra c'è Il tempo c'è Dobbiamo cercare Di fare tutto il possibile Quindi vi ringrazio A tutti quanti Spero che vi sia piaciuto Il video Nel caso vi chiedo Un mi piace Magari anche Di iscrivervi al canale E di cliccare Sulla campanellina Delle notifiche Come al solito Grazie a tutti E ci vediamo Nel prossimo video